Ciao a tutti e bentornati su IndieGameplayed. Oggi un video speciale, un video su due giochi italiani in uscita che sono già usciti. Oggi per prima cosa vi presento Zero Sievert che ha detto dello sviluppatore basato su... ispirato a Stalker e Escape from Tarkov. Io lo trovo più ispirato al secondo per quello che ho visto perché avete la vostra base dove potete commerciare col barista, quindi comprare le varie armi, rivendere quelle lotate e accettare delle quest che vi portano in un mondo. È una sorta di trasposizione 2D di Escape from Tarkov. Io adesso l'ho provato un pochino e in questa piccola anteprima potrete vedere i miei fallimenti. Potete anche andare a costruire le facilities all'interno della base e poi parlando col capo stazione potete accedere a al momento 4 o 5 luoghi, alcuni non ancora completi. E qua inizia la partita dove io mi accorgo fin da subito che l'arma va caricata prima di cominciare. A differenza di Tarkov avete però una mappa che vi fa vedere dove siete e dovete fronteggiare le azioni e per questo che si ispira anche a Stalker. Qua vengo beccato ma riesco finalmente ad abbattere il mio nemico andando a lootarlo con un sistema di looting sempre simile a Escape from Tarkov. Io devo aspettare per riconoscere gli oggetti, equipaggiare le armi, mettere tutto nel mio zaino e alla fine curare le mie ferite sanguinanti usando le bende. Poi ovviamente non vi mostra cosa c'è dietro gli ostacoli come in questo caso dove io andando avanti scopro che c'era un nemico che mi aveva sentito e mi stava aspettando e quindi la mia avventura finisce lì. Davvero gioco, è un gioco molto interessante. E ora siamo su Ghosts and Apple, un gioco italiano, un chiamiamolo un puzzle game, un rompicapo, davvero interessante perché nonostante sia totalmente diverso dall'altro che abbiamo visto un attimo fa, è uno di quei giochi che mi reputo molto rilassanti per gli amanti di, non so, Peggle, per gli amanti di Puzzle Bubble, insomma tutti quei giochi che li crush? Al momento è uscito per Switch ma è in uscita per tutte le console a quanto mi hanno detto. Non so direvi ancora il prezzo, poi ovviamente lo sviluppatore se vorrà poi potrà commentare qua sotto. In sintesi cosa si fa? Si va a imprigionare questi fantasmi buttandoli nella provetta lì sulla destra o la sinistra e praticamente abbinando o in alto o in basso di ogni provetta tre colori uguali diciamo di ectoplasmi di fantasmi, questi vengono fusi dandoci punteggio. Poi non è l'unica modalità perché qua ne vediamo un'altra dove si va a distruggere insomma questi fantasmi andando a potenziare una lampadina e poi ovviamente sfruttare il multiplayer è una genialata perché vi amplifica il divertimento e la longevità. Detto questo spero abbiate gradito questo video, vi ricordo che Zero Sievert è godibile già da subito gratuitamente dal Discord che mi lascio qua sotto in descrizione, Discord degli sviluppatori, mentre invece Ghosts & Apple è uscito per il momento su Switch, quindi lo trovate sulle shop Nintendo. Detto questo io vi rimando al prossimo video gameplay e ciao ciao!